Luca dov'è? Qualche caccerate più presto. Eh? Dai, chi è prestito? Quanti indivisci? 83 Cosa? 9 Ciao. Beh, torba. Ciao. Beh, ciao. Tu non fai la cimio? Ciao, viva la cimio. Ormai, la prossima puntata ti fermo che riempiamo un barnello d'acqua. E' un peccato. Eh? Scendiamo un po' laggiù, facciamo due parti. Scendiamo il libro. Sì, qua! Vanno a arrampicarsi a l'Evere, sta... Ma, mi pare che vado a salire qua, avanti a piedi, non vede due volte! E' se si stanno così. Uff! Sì, qua! Questa è una... 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 Questa... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.